Musica Ben ritrovati, ben ritrovati da Alessio Grosso dunque un cielo un po' ibrido in questi giorni diciamo così un po' sporco, perché? Perché c'è una lotta in atto tra l'anticiclone europeo e in parte anche quello africano contro le depressioni atlantiche che in qualche modo ancora tenteranno di disturbare il tempo soprattutto sul nord Italia ma poi non ci riusciranno perché l'alta pressione sul finire della settimana vincerà e porterà una fiammata calda ma andiamo con ordine questi si erano i cieli del nord di questa mattina ma comunque anche nel pomeriggio erano sporcati da questa nuvolaglia che vediamo dall'Atlantico muoversi con correnti mediamente occidentali e di interessare parzialmente l'Italia settentrionale centrale c'è stata anche qualche pioggia, qualche rovescio sulla Liguria verso sud noterete la circolazione più oraria e quindi lì vuol dire che l'azione dell'anticiclone impedisce la formazione di nuvole e il cielo rimane sereno mentre sul resto del paese, come detto, annuvolamenti irregolari in che cosa sfoceranno lo vedremo presto ma intanto l'analisi sinottica mostra questa depressione parcheggiata sull'ovest del continente un po' di alta pressione arriva a spingersi sin sul nostro paese è un'azione duplice tra l'anticiclone scandinavo-europeo che dir si voglia e l'anticiclone africano basterà per tenere lontane le insidie più grosse dall'Italia ma non per scongiurare del tutto il rischio di precipitazioni che infatti nella prossima notte e fino a mezzogiorno di domani saranno probabili dove ci sono quelle macchie blu probabili ma non certe sono un po' sovrastimate cosa vuol dire? vuol dire che sono un po' più brutte di quelle che potrebbero essere ecco, vengono proposte delle precipitazioni un pochino più come dire, sostenute in realtà potrebbero essere deboli o anche localmente assenti nel pomeriggio di martedì quindi migliora quasi ovunque tranne sui rilievi lì ci potrebbero essere ancora dei rovesci il mercoledì sembrerebbe buono quindi continua questa alternanza tra l'alta pressione e la depressione mentre la giornata di giovedì eccola qui potrebbe riproporre dei temporali sulla Liguria ecco lì con quelle macchie rose dovremmo essere più sicuri che i fenomeni dovrebbero realizzarsi Liguria, Piemonte poi muoversi verso sera qui siamo mezzanotte e 12 di giovedì nella seconda parte del giorno verso il resto del nord Italia e poi ecco la fiammata calda guardate a 1500 metri la temperatura si porta su delle regioni centro-meridionali ma soprattutto sulle isole maggiori quindi tra Sardegna e Sicilia potrebbero esserci davvero dei valori anche over 34 addirittura over 35 tra venerdì e sabato perché mare tiepido siamo a fine stagione l'Africa dal meglio di sé al nord molto meno lì l'ondata di caldo probabilmente non si sentirà ma andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni Riassumiamo tutto con le consuete grafiche il martedì come detto all'inizio al mattino è brutto è nuvoloso sul nord ovest potrebbe anche piovere qualche colpo di tuono isolato non è escluso poi pian piano il cielo si apre mentre al centro la mattinata è buona nel pomeriggio qualche focolaio temporalesco così come al sud ma solo all'interno e solo sulle zone appenniniche temperature ancora le vediamo qui relativamente miti al nord forse qualche grado in meno per qualche pioggia caduta restano estive procedendo verso sud in particolare segnaliamo i 29 gradi di Palermo e poi passiamo al mercoledì per segnalare ancora nuvolamenti sul nord ovest si avvicina una nuova perturbazione ma più che altro ci sono anche correnti da est che portano nuvolaglia per effetto stau si dice per blocco delle nubi sul Piemonte per il resto direi una giornata più che buona nel pomeriggio qualche isolato temporale in appennino ma per il resto ci sta il sole e ci sta anche di avere temperature decisamente superiori alla media del periodo soprattutto sulle isole maggiori andiamo a vedere ora il giovedì c'è quest'ultimo guasto un guasto diciamo temporaneo sul nord ovest ma potrebbero essere cattivi i temporali sulla Liguria perché lì c'è l'ingerenza del mare il mare che fornisce energia all'atmosfera e quindi qualche temporale piuttosto forte potrebbe svilupparsi ma di tutto questo e ovviamente anche della fiammata calda che si vivrà al sud ecco questo è un panorama siciliano marittimo siciliano che si svilupperà dicevo al sud tra venerdì e sabato parleremo diffusamente nella puntata di venerdì alle 19 di Meteo Live Weekend su Telenova e Telesubalpina intanto buona settimana a tutti da Alessio Grosso a presto a presto